Musica Be' a tutti ragazzi sono Gio e questo video si chiamerà Ma si trassimo un clan? Allora ci sono tanti punti da chiarire Intanto mi scuso come al solito che il gameplay è in privata Perché le clip per Mintage le avevo finite tutte per lo scorso video Che lascerò in descrizione non darà vedere facce di merda E anche per mancanza di tempo di fare un gameplay online Però almeno questo ve lo faccio in facecam Così faccio vedere quanto sono diventato bello in questi giorni Comunque allora creassimo Partiamo subito dal creassimo Perché creassimo in al noi e non io? Perché non penso di creare un clan da solo Ma penso di crearlo con dei miei amici E soprattutto con magari gente che registra Gente che ha già un bel po' di clip E gente che magari fa dei video un po' come me Non faccio nomi eh Però potete andare a logica Che fa tanti Che fa video abbastanza tanti Come me Ho praticamente i miei stessi iscritti E cioè Cioè fate video uno più uno e lo trovate Poi Un clan Allora voi tutti sapete che Sapete che io odio I clan che nascono Cioè proprio mi dà un fastidio I clan che nascono Fanno la promo Clan ovviamente italiani Fanno la promo Clip of the week E poi chiudono Allora Per evitare tutto questo Perché so che è difficile Portare avanti un clan Non penso di creare un clan così Ovviamente partiremo con un tintage Con clip di tutto il clan Cercando ovviamente di lasciare il Di lasciare il più possibile clip Con il tag Cioè con il nome del clan Che tuttora adesso non lo so Scrivetemelo nei commenti E Oppure vabbè lo deciderò io Non lo so E quindi non so ancora il nome E questo clan Cosa si caricherà su questo canale clan Allora ovviamente si caricheranno Tintage Episodi di player Introducing dei player Che entrano nel clan Ma soprattutto Caricherò Route to Killcam Serie in privata Con gli altri membri Serie in privata Da soli mie Oppure degli altri membri Editato ovviamente Ad esempio Cioè non so come Come spiegarvi Ad esempio Ti faccio 1440 kg Per prima Un video secolare Del mio canale Tipo 20 anni fa l'ho fatto Magari rifarlo con tutti quei membri Caricarlo solo ed esclusivamente Su quel canale Oppure le Route to Killcam In italiano ovviamente Perché comunque Resteremmo nella comunità italiana Penso Perché fare Route to Killcam Video del genere Clip of the week Tutto quanto in inglese Per me è impossibile Lo so Sono in italiano Come voi Penso che è abbastanza Per tutti gli italiani È abbastanza impossibile Perché ecco Un clan da zero In italiano In inglese Far solo video in inglese Quindi Se magari vi piacerebbe Entrare Lasciate un commento Con scritto Il vostro nome Skype Che vi aggiungerò io Scrivetemi quindi Il vostro nome Skype Nei commenti Che ho scritto Magari Voglio entrare Voglio sapere un po' di più Di questo clan Scrivetemi dei nomi Del clan Soprattutto Che mi interessa Vedere anche un po' La vostra idea E scrivetemi anche voi Cosa ne pensate Se preferite Non creare nessun clan Se preferite Il classico clan Che nasce E muore Dopo tre mesi Neanche Oppure Se vi piace Qualsita di Canale Barra Community Fatto così Boh Lasciatemi un commentino Con queste cose Che vi ho chiesto Da Joey E tutto Vi lascio la clip Bella Grazie a tutti